In questo momento vediamo un incontro individuale con una mamma in attesa, una gestante prossima al parto che sta curando il momento di concentrazione e di raccolta sulle proprie energie per prepararsi al travaglio al parto. Quindi è una mamma già avanti come settimana gestazionale, già molto concentrato sul pensiero del parto, lavoro sul respiro, che non è mai un respiro insegnato. Nel mio laboratorio non vengono mai proposti percorsi di insegnamento, non si insegnano cose, non si danno ricette per fare bene. Si parte dal vissuto personale, dal respiro spontaneo di una persona e grazie alla musica e alla ciclicità del torna e ritorna, dei suoni armonici che io propongo attraverso il pianoforte a coda, che poi arrivano alla mamma attraverso la conduzione ossea, perché il pianoforte non è uno strumento finto campionato, ma uno strumento di legno che a contatto con lo scheletro umano conduce il suono. Allora i suoni arrivano alla mamma direttamente al suo scheletro per contatto dal legno del pianoforte e le arrivano anche tutti intorno per via aerea. Questi sono i suoni del suo respiro si calibra sui suoni che le arrivano dal di fuori e può modellare i suoi respiri sulle armonie che le arrivano, laringe, faringe e trachea. Il suono che si va a sviluppare dentro è un suono armonico che sta bene con il suono che arriva fuori. Tutto questo per il bambino in grembo è un'iniezione di ordine, di proporzione, di armonia importantissimo per la sua formazione psicofisica e per la preparazione al travaglio, al parto che deve essere veramente una festa per la mamma con il suo bambino, quindi un andare al passo insieme, un conoscersi, un ascoltarsi e un gioire di un bel appuntamento insieme.